L'attacco Israele getta di nuovo scompiglio sui mercati finanziari. E allora, come mi è stato chiesto, parliamone in questa puntata del nostro podcast, per capire che cosa fare di fronte ai mercati assolutamente fuori controllo. Ben trovati, io sono Giacomo e dal 2010 mi occupo di investimenti personali. Attraverso il sito segretibancari.com offriamo i nostri servizi di consulenza finanziaria indipendente per chi vuole investire diversamente, quindi con un approccio diciamo omnicomprensivo, e attento al mercato stesso. Iscriviti a questo canale, se mi stai guardando su YouTube e se non l'hai ancora fatto, per ricevere tutti gli aggiornamenti, compresi fuori onda, che in qualche modo pubblichiamo al di là del nostro appuntamento del venerdì alle 18. Ma ora entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Le persone sono spaventate. Sono spaventate perché? Perché hanno fatto un errore prima. Cioè molti investitori creano di portafogli che non sono coerenti con i propri obiettivi e con la volatilità che loro stessi sono disposti a sopportare ed è quindi normale che in certe condizioni di stress si sentano in qualche modo a disagio. Ma non è questo l'obiettivo, non sono qua per farvi una ramanzina su come si costruisce un portafoglio, ma per darvi delle indicazioni chiare e precise su come comportarvi, partendo da un aspetto importante. I mercati nel breve periodo votano, nel lungo pesano. Questo cosa significa? che nel breve periodo il mercato è in preda alle notizie, è in preda a quello che succede perché l'emotività fa sì che i mercati mostrino una sovrareazione alle notizie stesse. Può succedere per tanti motivi, il caso di Israele è uno di questi. Magari i mercati scenderanno perché viene assunto come pretesto il fatto che c'è la guerra. Ora, al di là del fatto che la guerra è sempre un elemento drammatico, quello che dobbiamo chiederci è, ma effettivamente questo dato nel lungo periodo avrà senso? Pensiamo alla guerra in Ucraina. In qualche modo i mercati l'hanno interiorizzata. Pensate anche al gas russo. Non c'è più il gas russo, c'è il gas naturale liquefatto. Quindi nel lungo periodo quello che veramente conta è l'impatto che la guerra può avere sui mercati reali, quindi sugli utili aziendali. Ora, a meno che voi abbiate investito sull'Emea, quindi su fondi o ETF specifici che insistono sull'area geografica del Medio Oriente, mi sembra difficile pensare che nei prossimi anni una guerra, che peraltro c'è già perché quella è un'area abbastanza calda, effettivamente avrà un impatto di lungo periodo sui mercati. Ce l'avrà nel breve. Anche perché quello che sconvolge gli amici che ci seguono, i nostri clienti che hanno formazioni scientifiche, matematiche, ingegneristiche, fisiche, eccetera, è che in finanza raramente succede che uno più uno faccia due. Cioè, chi di voi è abituato a pensare in termini proprio di scienza, di regole, fatica a comprendere questo aspetto, perché la legge di gravità è una legge universale, una legge che è così, se io lascio cadere un oggetto per terra questo cade, di lì non si scappa. C'è un'altra legge, se non ricordo male, la legge di Bernoulli, che fa sì che l'aereo possa volare, e sarà sempre così, le navi galleggiano perché c'è la spinta di Archimede e così via. E qui in finanza gli stessi eventi vengono letti in modo diverso, perché quello che conta è il contesto narrativo in cui si sviluppa una determinata situazione. Oggi la narrazione è cambiata, magari in un altro contesto come nel 2001 i tassi salivano e l'economia cresceva, perché la narrazione era, c'è ottimismo, i tassi crescono, Greenspan all'epoca li alzava per frenare l'economia. Oggi lo scenario è, le cose vanno male, caspita ci mancava ancora la guerra in Israele. Quindi di nuovo c'è questo, in qualche modo, effetto di amplificazione delle notizie negative, che però, vi ripeto, nel tempo non dovrebbero essere così drammatiche. E poi c'è un altro aspetto che può essere innescato dalla crisi in Israele, ma può essere innescato da qualsiasi cosa, che tra le tante certezze che saltano è quella delle correlazioni negative. Noi diciamo ai nostri clienti che effettivamente le azioni e le obbligazioni sono correlate negativamente, e così è, ma è così nel lungo andare. Poi ci possono essere dei periodi in cui il panico è molto acuto, in cui azioni, obbligazioni, commodi di quello che volete voi, effettivamente perde valore. E questo di nuovo sconvolge, perché le persone vanno in ansia, ok? Quindi attacco in Israele, cambi la narrazione, magari attraversiamo o no, io adesso sto facendo un po' di accademia, sto raccontandovi quello che potrebbe capitare, un periodo di corretto relazioni negative, in cui tutto va a carte 48. La reazione emotiva è sovradimensionata, ecco allora che arriva il panico. Soprattutto i settori più, come dire, sotto stress sono quelli che hanno un beta maggiore di 1. Il beta che cos'è? È sostanzialmente un indicatore che, riferito a un singolo titolo o a un settore di un indice più ampio, misura la reattività di quel titolo o di quel settore rispetto al mercato. Per farvela ultra semplificata, poi chi è interessato ad approfondire potrà trovare naturalmente contenuti sul web, o magari poi ne parleremo in una puntata di Lo Chiamavano Saver che c'è il martedì alle 18, ma al di là di questo un beta maggiore di 1 vuol dire che quello strumento finanziario, quella strategia di investimento, quel fondo ha performato molto bene con i mercati che salivano perché ha amplificato il trend. Però, quando i mercati vanno male, ecco che la volatilità vi si ritorce contro perché diventa un amplificatore, in questo caso, dei ribassi. E allora cosa dobbiamo fare sostanzialmente o non fare oggi? Vi do alcuni spunti pratici. Immaginando che effettivamente la crisi del Medio Oriente porti a una correzione importante manda sui mercati, poi se non la farà utilizzeremo questi contenuti, questi spunti di riflessione, queste considerazioni per il futuro. Anzitutto dobbiamo lasciare maturare i ribassi. Qualcuno di voi, commentando un video precedente su YouTube, ha detto caspita i mercati crollano verticalmente. Ecco, amici miei, se voi siete così preoccupati perché i mercati perdono un 2%, un 3% al punto da definire, un ribasso verticale, beh allora forse c'è qualcosa che non va, forse non siete tanto degli investitori, perché l'investitore in qualche modo deve accettare la volatilità, ma il punto su cui voglio attirare la vostra attenzione è che dobbiamo lasciare maturare i ribassi, perché questo è un tipo di persona, quella che ho descritto poco fa, che si spaventa. C'è anche un altro tipo di investitore che inizia a scalpitare perché vorrebbe comprare, dice, oh caspita adesso i prezzi sono convenienti, aspettate, se in qualche modo valutavate i prezzi cari prima non è che adesso che il mercato ha perso un 2% è diventato super conveniente. quindi non abbiamo fretta di andare a comprare, per evitare, come dicono gli americani, di afferrare un coltello che cade. Ok, il coltello è sceso, è un livello più basso di prima, però sta comunque cadendo e naturalmente mi porta ulteriori perdite se io corro troppo avanti, ho troppa fretta di fare qualcosa. L'altro consiglio è quello di mettere all'interno dei vostri portafogli degli investimenti per quote naturalmente piccole, non per tutti, eccetera, ma io vi butto lì, come sempre il sasso, un ETF sulla small cap. Questo per che motivo? Le ragioni sono due. Punto numero uno, perché le small cap in quello che è stato il rialzo degli anni precedenti sono rimaste un pochino indietro, quindi in qualche modo hanno ancora spazio per crescere, per andare a colmare quel divario rispetto alle large cap. Vi ricordo che anche a livello americano, che è il mercato più importante del mondo come sappiamo, l'S&P 500 è salito molto perché sono saliti i primi 5-6 titoli che rappresentano l'indice stesso, che sono gli stessi tecnologici, ma tutti gli altri sono rimasti indietro, quindi c'è ancora spazio perché crescano aziende meno di moda nell'ultimo periodo, ma c'è anche spazio perché crescano le small cap in Europa, in America e nel resto del mondo. Il secondo motivo è che se davvero dovesse divagare, scusatemi, divampare l'incendio della crisi in Medio Oriente, come accadde nel 91 con Saddam Hussein, beh, in questo caso le aziende small cap sono meno esposte perché la Apple, per fare un nome, piuttosto che Amazon, piuttosto che la Nike, che sono grandi brand, magari sono penalizzati perché hanno un mercato di sbocco là e naturalmente sono in qualche modo ferite da un crollo di domanda derivante dal fatto che c'è la guerra e quindi una devastazione di quei territori. Ma l'azienda piccolina che vende filtri per l'acqua potabile a Edimburgo, beh, quello magari è molto meno soggetta a fenomeni di questo tipo, quindi le small cap hanno anche un effetto paradossalmente protettivo rispetto a quelle che sono le crisi globali. E poi c'è un ultimo aspetto che è quello dell'ingresso quando scattano di trigger. Voi sapete che da tempo io consigliavo di andare a investire sull'azionario diversificando rispetto al tempo. Questa è una cosa che facciamo anche noi con i nostri clienti, quando un cliente si affida ai nostri servizi non è che li facciamo comprare tutto subito, ma diversifichiamo nel tempo gli ingressi. Questa è una possibilità che resta tuttora valida. Io vorrei darvene un'altra, che è quella di investire non a scadenze regolari, ma quando scatta un trigger, quando si verifica un evento. E questo evento qual è? Quello che il nostro amico di prima definiva un crollo verticale. Quindi quando il mercato perde il 2% o il 3% in un giorno, beh, io in quel momento lì, a prescindere dalla sua scadenza temporale, quindi si è verificato a distanza di una settimana, di un mese, di sei mesi, quello che è, vado a aumentare l'investimento in azioni. In questo caso faccio un pack, per così dire, che non è però un pack guidato dal tempo, ma è un pack guidato dalle quotazioni di mercato e andrò ovviamente a comprare in maniera più forte proprio quando scatta l'evento trigger, quando il mercato è in preda al panico. Vi ricordo anche che, per esempio, dopo l'11 settembre del 2001, io lavoravo in banca e i mercati crollarono, ma poi nel giro di qualche giorno recuperarono anche in maniera importante parte di quello che avevano perso. Quindi comprare proprio nei giorni in cui c'è una forte, diciamo, negatività, questo sicuramente vi aiuta. Con questo io ho concluso. Vi ringrazio per il tempo che avete trascorso con me. Vi ricordo di ascoltarci su Spotify, se preferite la versione audio, oppure di continuare a guardarmi su YouTube ogni venerdì puntuali alle 18. Che altro aggiungere? Buona serata, buon weekend e buon investimento a tutti! Grazie a tutti!